1 chi può sembrare con assassin's creed sali sull'auto ma che altro io preferivo la tipologia questa tipa anch'io voglio un lampione così a casa a tre tette ma magari tre tette dove sei? ho solo macchina io si scendi ah no mi fa salire dietro perchè? seguilo però vai vai tiralo giu segui non precedi muoviti ma in moto scusa cosa vuoi che faccia? come andare veloce non puoi diragliare non puoi diragliare ma praticamente c'è una moto che sembra un calo armato cioè cingolati a costruire si ma questo è lento dai muoviti spingilo mi sono perso cosa ha detto io non mi sto seguendo scusa tu che non guidi potresti anche leggere ma ero concentrato durante il combattimento l'ordine di cipriano ci sta nel calcagno chi è l'ordine di cipriano? ah ok noi siamo qua l'ordine di cipriano ma c'avete un nome proprio del manga posso dirvelo c'avete un nome del calcio cos'è l'ordine di cipriano? eeeh lasciami in pace ha insultato mia madre qua ha insultato mia madre quello hai detto tua madre è una bestia anche le macchine ballano anche le macchine ballano guarda questa nuda non era nuda ma guarda che finita la musica non è bello? ecco scappa puoi prendere la macchina dell'ordine di cipriano ma perchè parlano sempre mentre noi stiamo facendo altro? ma perchè parlano sempre mentre noi stiamo facendo altro? ah forse devo scendere oh questo mi ha fatto scendere togiti ma no mi ha cambiato arma ma io non volevo quest'arma come la cambio l'arma già? e muovi ti sali dove era la mia pistola dubstep? ah ok ma guarda hai irrigato la fiancata sei un pezzente vai segui night blade ma dov'è? ah è qua è stato night blade agriga e poi è stato wolverine eh graffiare la fiancata non l'hai visto? ah costruzione di simulazioni ma non ho capito di cosa ma hai pensato con il rosso il suo night blade ma ti sei accorto? eh vabbè è solo un colore eh eh si ho letto qualcosa sul fatto che è sposato con un vampiro ho letto qualcosa sul fatto che è sposato con un vampiro e con Silvia che non posso mai amare una poesia una delle finestre che ha scritto ah hai detto che dopo questa non riuscirò mai più ad amare quindi ha rifiutato un'altra tipa che ci provò perché siamo qui? scusami night blade ho pensato che avessi dovessi usare il cardinalo prima ho piaciuto la tua storia abbastanza entra Zidjak ma ho pensato che il tuo finire potrebbe usare un po' di lavoro cosa stai facendo con la mia storia? Matt, guardate non lo farò 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 di un dictatore di aliena stompando tutto il mio universo universo Matt, guardate Matt, guardate ho pensato che fossi il mio alli ora ora trovo che sei un pezzo del Dio no night blade non lo farò 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 come si usano i poteri? ma perchè mi tiri per terra? fai attenzione con quella barata eh con Esche sto prendendo a polpare sto tipo sto prendendo a polpare sto tipo mi è su mezzo morte dove è andato? ma perchè mi investono con la macchina? no rianimazione necessaria help me blocks mark cotton tops I'm here help me dove? qui grazie non mi ricordo più come si corre con shift dove è andato il tizio? ah è là sopra fa il giacchino ah ma non abbiamo più i superpoteri cribbio mi avevo dimenticato che non abbiamo più i superpoteri ok non riesco a prenderlo di mira sto pezzente mmm bravo sei la che è successo? ho visto qualcosa esplodere ma non riesco a prenderlo di mira è quasi ma dove va? dove va? ah eccolo la è per terra no è andato l'ho tirato aia la macchina addosso tipo dove è andato? no sono io che lo tiro ah ma mi hai tirato la macchina addosso? l'hai fatto scappare l'ho lanciato lontano no l'ho lanciato io tanto adesso arriva speriamo eh perchè se ce l'hai fatto scappare ah no guardalo che arriva l'ho preso sparagli sparagli eh ma ok mollalo dove? dove and- c'è qualcuno qua mi ci spara ti piace questo oggetto lasciami in palce stavo seccando la tipa se solo mi lasciassi in palce oh let's get out of here i can't stand the way this is turned out we're not we don't leave until you get your powers powers? oh c'è qualcosa I How could I ... you mean from night plate? c'è una war i creature of the night must be defeated that Franklin night die in vain so you do understand no non sto capendo niente che 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 è successo? Non possiamo ancora usare i poteri Gli abbiamo dato tutti i diritti d'autore su Nightblade A condizione che non ci venda Ma che senso ha? Ci ha dato pochi soldi e poche esperienze anche credo Ma però sto salito al 18 Insomma per amico Matt Miller Nessun purista del canone potrà impedire a Matt di credersi un supereroe Richiama Matt dal tuo menù telefono del tuo hub per scoprire il suo nuovo equipaggiamento Scusa quindi se faccio tab... No, non ponete iniziamenti, scusa un attimo Voglio il telefono Posso chiamare... Ah, consegna veicoli LOL Matt Miller Se lo chiamo cosa succede? Scusa Ehm... Come si usava il super fuoco Ah, guardalo! L'ho chiamato e c'è anche lui Guarda che sexy Sì Ce lo dici tu Ma che carmai scusa? È tipo un calamite Ma posso chiamare anche Sid? Io voglio chiamare Sid Posso chiamare Sid? Telefono Sid Ho altre cose che devo fare Ah, dici che è impegnato Che non può venire Ma consegna veicoli? Posso consegnare una macchina? Chrome Rattler Non so che macchina sia Ehm... Ma che case? Ma io non ho capito Mi sono materializzato dentro una macchina Ho chiamato e consegna delle macchine E ho trovato una macchina qua Ma no! L'avevo appena comprata! Me ne faccio consegnare un'altra Consegna veicoli Ehm... Chrome Rattler Yeah! Ma perché inizio a sparare sto tipo quando sono in macchina? Ah perché c'è il... Il coso qua Ma un rinculo enorme sta roba Devo prendere di nuovo il dubstep Ehm... Ok fin... Ok... Dobbiamo... Sai che dobbiamo... Finire? Sì, dobbiamo concludere... Se cambia un paio di... Alien Uncoli da sto pazzo Mori, morici male... Con la dubstep Suprema dubstep Allora che è che finisce? Ho preso fuoco Ehm... li abbiamo seccati tutti? No, ce n'è ancora uno qua Sì, beh... Però finiamo l'episodio... Che sta durando un eterno Ma lo sapisco più, porca miseria Sì, chiudiamo l'episodio Anche perché sto morendo Ok... Perfetto, quindi... Per me... Mazotes... Può anche essere tutto Saluto... 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 Ciao... Ciao a tutti... Ciao...